Dalle prime ore di questa mattina i carabinieri stanno eseguendo nelle province di Roma, Rieti, Frosinone, L'Aquila, Catania ed Enna un'ordinanza di custodia cautelare messa su richiesta della procura distrettuale antimafia di Roma nei confronti di 44 indagati a vario titolo per associazione di tipo mafioso, corruzione, turbativa d'asta, false fatturazioni, trasferimento fraudolento di valori e altri reati. Contestualmente sono in corso perquisizioni a carico di altre 21 persone indagate per gli stessi reati. I provvedimenti che riguardano gli sviluppi delle indagini condotte da Ross nei confronti del sodalizio mafioso facente capo a Massimo Carminati hanno confermato l'esistenza di una struttura mafiosa operante nella capitale, cerniera tra ambiti criminali ed esponenti degli ambienti politici e amministrativi di imprenditoriali locali. Le investigazioni hanno documentato tra l'altro il ramificato sistema corruttivo finalizzato a favorire un cartello di imprese non solo riconducibile al sodalizio interessato alla gestione dei centri d'accoglienza e consistenti finanziamenti pubblici connessi ai flussi migratori. Tra gli arrestati ci sono anche l'ex presidente del Consiglio Comunale di Roma Mirco Coratti e Luca Gramazio accusato di partecipazione all'associazione mafiosa capeggiata da Carminati che avrebbe favorito sfruttando la sua carica politica. Prima di capogruppo PDL il Consiglio di Roma Capitale ed in seguito quale capogruppo PDL poi FI presso il Consiglio regionale del Lazio. In manette anche l'assessora alla casa del Campidoglio Daniele Ozimo. I rossa hanno posto in arresto anche i consiglieri comunali Giordano Tredicine, Massimo Caprari e l'ex presidente del decimo municipio Andrea Tassone.